E' bello amare il calcio. Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Castro, Birsa, palla sul mancino, cerca spazio, dentro per Stempinski. Stempinski! Accorcia le distanze il Chievo con Mariusz Stempinski. Al minuto 90 mancano 34 secondi al novantesimo. L'esultanza del polacco che accorcia le distanze per il Chievo. Quarto gol in campionato per Stempinski. Qui Castro fa un buon lavoro, riceve da inglese Birsa. Dentro per Stempinski tenuto in gioco da Skriniar. Niente da fare stavolta per Samir Andanovic.